Loro fanno due legislature, vanno a casa, ce ne andiamo a casa, questa è una guerra, o vinciamo noi o ce ne andiamo a casa, perlomeno, questo è il mio parere, non c'è la transazione, la mediazione, fare le coalizioni, è finito questo mondo, o ci mettiamo cittadini che si impegnano e io non chiedo il voto a nessuno, chiedo il voto a gente che si impegna in un progetto, perché se mi dai il voto e poi guardi dalla finestra, non mi interessa, hai sbagliato, l'ho detto a un sacco di gente, mi aspettavo di più da voi, mi aspettavo di più, hai sbagliato, Hai sbagliato a votarci, te lo do indietro il voto, dovevi impegnarti tu, nel tuo quartiere, nelle tue cose, con una battaglia tua